Benvenuto alla meditazione del cuore. Mettiti in una posizione comoda. Seduto a gambe incrociate, straiato con la schiena a terra, oppure seduto su una sedia. Inizia facendo quattro respiri profondi. Inspira dal naso ed espira dalla bocca. Chiudi gli occhi. Ora il respiro è leggero. Prepara il tuo corpo a questa transizione verso l'interno. Continua a respirare in modo naturale, senza forzare. Permetti al corpo e alla mente di arrivare nel presente. Porta la mano destra sul cuore e la mano sinistra sopra di essa. Concentrati sulle sensazioni di questo gesto, di questo contatto profondo. Puoi sentire il respiro nelle mani. E un abbraccio caldo nel tuo petto. Concentrati sul punto dove le mani toccano il cuore. Si tratta del nostro organo più importante, ed è anche un secondo cervello da dove viene l'intelligenza profonda e sincera. Focalizzati sul suo calore. E prova a diffonderlo in tutto il corpo. Questa consapevolezza d'amore aumenta sempre di più, mentre appoggi le mani sulle tue gambe. Continua a visualizzare e a pensare al calore che si irradia per tutto il corpo. Ora volgi la tua attenzione al respiro e alla sua energia mentre attraversa il cuore. Pensa ad un'emozione o ad un'esperienza negativa che desideri trasformare in qualcosa di positivo. Identificale nel respiro e falle viaggiare attraverso il cuore. Quando inspiri arrivano oltre la schiena, mentre quando espiri tornano indietro disperdendo energia e forza. Continua a far viaggiare queste sensazioni e gradualmente esse perdono sempre più potere sul tuo corpo. Quando avranno perso completamente vigore, puoi scegliere un'altra emozione e ricominciare il processo. Posa di nuovo la mano destra sul cuore e la mano sinistra su di essa. Torna a questo tocco che porta pace e amore. Ancora il calore si diffonde in tutto il corpo. Rilassa le braccia sopra le gambe. Ora che sei alla fine di questa pratica, riprendi consapevolezza del tuo corpo e dell'ambiente circostante. E preparati per la tua giornata portando con te amore. Quando sei pronto, riapri gli occhi. Grazie per aver ascoltato. Scrivi nei commenti le tue sensazioni. E iscriviti al canale per ricevere ogni settimana nuove meditazioni. Namaste.